Oggi qui alla Festa dello Sport a Villa Serra a tutti i ragazzi verrà consegnata una borraccia in alluminio. Sì, è un'iniziativa a cui tenevamo particolarmente, già altri comuni l'hanno portata avanti. Diciamo che abbiamo voluto farle coincidere la consegna delle borracce con la Festa dello Sport perché siamo fermamente convinti, teniamo molto al fatto che i nostri ragazzi, che l'educativa ambientale parta proprio dai bambini, dai ragazzini. È coincisa questa Festa dello Sport, questa consegna delle borracce con la settimana dell'ambiente, questo appuntamento all'ONU in cui una ragazzina di 16 anni ha dato un messaggio molto forte a chi è più grande di lei e dovrebbe dare l'esempio. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare un contributo e diciamo che questa iniziativa appunto è quello che noi portiamo avanti, è una delle prime iniziative che portiamo avanti nelle nostre politiche di educazione ambientale con lo slogan che abbiamo trovato e per questo devo ringraziare l'assessore al bilancio trucco a ritmo sostenibile, sempre un po' in linea con quello che è il nostro slogan dall'inizio. Quindi noi siamo contenti di essere qui oggi, di fare questa festa, di dare questo piccolo regalo ai nostri ragazzi. Questa festa è l'esempio di come questa amministrazione stia lavorando in questi mesi, in questi primi giorni di mandato, di come questo gruppo sia unito e tutti gli assessori a partire oggi dal nostro consigliere delegato allo sport, Simone Giacobbe, abbiano portato avanti i progetti e porteranno avanti i progetti di spessore per il nostro comune.